È un bel ritorno, la formula che avevamo predisposto negli scorsi anni sta prendendo sempre più piede, una edizione invernale all'Aquila che prepara il Natale, una edizione estiva a Pescara sulla spiaggia, che d'altronde è Cartoon Son de Bay sulla spiaggia, è così è nata e così deve continuare. È una grande occasione di visibilità per il nostro territorio perché questo evento viene eseguito da operatori in tutto il mondo ed è però anche una bella occasione per le famiglie e per i bambini perché in particolare l'edizione invernale viene puntata soprattutto sui giovanissimi, sui cartoni animati, sul cinema d'animazione e appunto i nostri bambini saranno i protagonisti anche di questa edizione e potranno avere un'occasione unica di vedere i loro eroi, i loro beniamini.